Ciao ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video e sono particolarmente contenta di girare questo video perché si tratta di un nuovo video in collaborazione con le Beauty Addicted che ormai era tanto che non me le sentivate nominare perché insomma ci siamo un po' di stop per l'estate e questo mese siamo tornate con una collaborazione più bella che mai diciamo un po' il tema ancora un po' estivo però comunque non fa ancora questo freddo eccessivo e il tema era di rappresentare con un trucco il proprio cocktail preferito io ho deciso per il Sex on the Beach che è in assoluto il mio cocktail preferito vedete i colori dell'arancione, rossiccio, giallino quindi insomma e ho deciso di ricrearlo quasi totalmente con la mia amatissima duocrom e quindi insomma spero che vi piaccia e faccio vedere insomma al volo poi vedrete questo è più o meno il risultato e dicevo anche dopo insomma pensavo fosse un trucco non tanto portabile invece poi visto nel complesso alla fine mi piace davvero moltissimo un'altra cosa fatemi sapere cosa ne pensate del colore dei miei capelli cioè se vedete differenze rispetto agli altri video perché oggi ho fatto la tinta questa qui della Kadi che insomma è quella per ravvivare i riflessi rossi e insomma fatemi sapere cosa ve ne pare se vi piace a parte questo vi lascio il tutorial e come al solito sotto vi lascio il link del nostro gruppo dove potete trovare anche gli altri tutorial delle altre ragazze fateci un salto e ora vi lascio il mio tutorial a dopo iniziamo subito e inizio applicando il correttore io utilizzo l'istant anti-age della Maybelline nella colorazione light questa volta farò prima gli occhi e poi la base visto che voglio fare un trucco occhi molto intenso allora insistiamo subito le sopracciglia con la mia solita matita Benecos sempre al contrario la metto la Natura Labro Designer applico su tutta la palpebra mobile un primer e questa volta utilizzi il pro base della MUA ovvero della Makeup Academy e ora passiamo agli occhi applico su tutta la palpebra mobile un matitone della Kiko che è lo Smoky Look Eyeshadow che è il numero 02 è diciamo un color salmone aranciato che comunque è perfetto per il trucco che vuoi andare a fare ora prendo lo scotch devo dire che cosa ci fa con lo scotch e lo vado ad applicare qui alla fine dell'occhio perché voglio fare un trucco molto allungato e comunque preciso vedete in questo modo che comunque così riesce a seguire la linea dell'occhio un po' più verso l'alto ora prendo la mia amatissima Blue Cram e con un pennellino da sfumatura un po' a penna non è molto ampio come questo qui di H&M vado a prelevare Fenice e lo applico nella parte esterna dell'occhio portandolo nella piega è un colore come vedete assolutamente fantastico e poi comunque col matitone che ho messo sotto risulta ancora più intenso già comunque di suo è molto pieno come colore ora prendo un pennellino a punta piatta e vado ad applicare nel resto della partebra mezza estate che è un aranzone molto più chiaro e brillante e lo porto, cioè lo vado a sfumare bene con Fenice con un pennellino sempre piatto ma un po' più piccolino vado a prendere Polline che è questo giallino verdino e lo applico all'inizio dell'occhio lo porto anche un pochino verso il basso e lo sfumo ovviamente bene con il resto dei colori voglio creare più luce proprio nel centro dell'occhio e quindi prelevo come ho fatto prima a mezza estate ma lo applico bagnato vado a rintensificare nuovamente i colori e ora con un eyeliner in penna utilizzo l'I love punk della Essence vado a creare una bella riga di eyeliner tenendomi sempre come guida lo scotch mettersi l'eyeliner guardando la videocamera e lo specchio contemporaneamente è tipo la cosa più difficile al mondo adesso la vado a aggiustare visto che non è neanche venuta perfettissima come sempre con un pennellino appunto d'eyeliner e l'ombretto nero in cialda di neve Black Sheep sempre dalla palette e diciamo la mia personalizzata di neve con un pennello piuttosto ampio vado a prelevare l'illuminante plastic e lo metto sotto l'arcata sovracciolare levo lo scotch e vado ad applicare nella rima interna dell'occhio una matita nera e utilizzo questa qui per me piccolina della Bishik che si chiama eyeliner sguardo profondo uso questo perché è veramente un bel nero intenso come vedete è davvero molto molto nera e con un pennellino da precisione tipo questo qui se metto a fuoco ok vado a riprendere mezz'estate e la applico sotto l'attaccatura delle ciglia sto per creare un po' di ombre e di luce allo stesso tempo perché comunque è anche bello luminoso infine aprivo il mascara e utilizzo il Pupa Lump e questo è il risultato dell'occhio finito non so quanto si noti dalla videocamera come sempre l'effetto un occhio sì un occhio no è fantastico e io comunque come sempre ho lo specchio sotto vi dico che è sì un trucco abbastanza forte diciamo ma secondo me è portabilissimo magari ecco non per andare a scuola o a università o a lavoro ma per uscire secondo me tranquillamente è portabile ed è davvero molto molto bello faccio l'altro occhio e torno eccomi qui con entrambi gli occhi truccati passiamo al resto del viso applico su tutto quanto il viso questo fondotinta della Essence lo stay all day 16 ore nella tonalità 20 soft nude e lo vado ad applicare con una spugnetta in lattice voglio spendere un attimo due parole su questo fondotinta anche se ve ne ho già parlato nella makeup collection però so che sta andando fuori produzione quindi insomma chi interessasse è un fondotinta che consiglio tra l'altro mi sta anche finendo consiglio perché non so se con le luci e tutto riuscirò a notarlo lascia la pelle davvero bella naturale non dà l'effetto appesantito di un fondotinta certo non è un fondotinta perché guarda gli inci quello è poco ma sicuro ora applico una cipria questa qui è molto chiara se faccio così mi ha tipo scurissimo ma in realtà è così chiara ed è della F non c'è più il nome perché sul tappino oltre che a stessi rotto si è cancellato e la vado a prendere con un pennellino non troppo grande questo è della neve e la vado ad applicare nei punti che più mi interessano applico adesso un bronzer e come sempre indovinate vado ad applicare il bronzer della Sun Club Essence sulle guance vado ad applicare un blush della Catrice il Defining Defining Blush e questo è il 050 Apropos Apricot che è diciamo un rosa aranciato con delle perlescenze oro all'interno volevo mettere di quella verità il blush up arancione della Essence ma avevo paura che era troppo tutto arancione e quindi ho voluto un attimino staccare con questo blush ok infine passiamo alle labbra utilizzo una tinta labbra della Kiko un lip marker che è il numero 102 che diciamo è un color corallo sì un color corallo le tinte labbra della Kiko durano davvero tantissimo e rimangono come vedete anche molto belle il problema è che tendono a seccare davvero abbastanza le labbra e quindi dove l'ho messo sopra ci tampono il lip balm della Organic il Cherry Candice che sembra rosso ma in realtà trasparente in questo modo oltre a durarmi molto di più appunto proprio il colore sulle labbra non me ne va a seccare niente ragazzi questo è il risultato finale spero che vi piaccia e vi dico la verità pensavo venisse con l'idea che avevo in mente un trucco un po' più eccessivo invece secondo me è un trucco davvero portabilissimo in realtà che dopo devo uscire e ci uscirò e quindi niente fatemi sapere se vi piace se lo trovate comunque un trucco portabile e fate un salto nel gruppo che vi lascio giù il link come sempre se vi va unitevi perché comunque lì chiacchieriamo un po' di tutto quanto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao